Condividere e prendere consapevolezza di quello che sta accadendo in Ucraina, capire come progettare la pace e disarmare la guerra. Questi gli obiettivi dell'evento tacciano le armi, organizzato da Pax Christi nei locali della parrocchia Sacro Cuore a Termoli. Un tema molto sentito a testimoniare la sala piena. All'incontro presenta il parroco Don Silvio Picco, il Antonio Delellis e il professore Rossano Pazzagli, docente di storia all'Università del Molise. Bisogna dire no alla guerra, ma non basta. Bisogna dire no alle armi, perché le armi sono lo strumento della guerra. Noi abbiamo altre armi, che sono quelle del dialogo, e non è possibile che non si comprenda questo. Un appello per mettere in atto una politica non violenta, ma rimettere al centro il dialogo cominciando dal basso. Vogliamo un po' riflettere, ragionare e cercare di liberarci di quella mentalità belligerante che sta montando e che rischia di essere il vero problema e anche di creare le condizioni per un coinvolgimento militare anche dell'Italia.